Giussi Princi, 49 anni, aria Forza Italia, dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, sarà vicepresidente con delega di istruzione, università, ricerca, lavoro, formazione professionale, bilancio, azioni di sviluppo per la città metropolitana. Apprezzata nel mondo della scuola, si è particolarmente distinta per diverse iniziative, tra queste la curvatura biomedica che ha fatto della sua scuola la capofila a livello nazionale. Gianluca Gallo, Forza Italia, mister preferenze con quasi 22.000 voti il 3-4 ottobre di Cassano all'Oionio, avvocato e stato confermato dal governatore Occhiuto, assessore all'agricoltura, risorse agroalimentari, forestazione e aree rurali. E di Forza Italia anche Rosario Vari, 48 anni, di Vibo Valencia, vicino al coordinatore regionale Azzurro Giuseppe Mangiolavori, svolge la sua professione di avvocato a Roma. Nell'esecutivo si occuperà di sviluppo economico e attrattori culturali. Riconfermato in giunta Fausto Orsomarzo, 50 anni, Cosentino, laureo in economia, pezzo da 90 di Fratelli d'Italia, per lui le deleghe al turismo, marketing territoriale e mobilità. L'altro esponente del partito di Giorgia Meloni e Vandaferro è Filippo Pietropaolo, 58 anni, commercialista, già capogruppo nella scorsa consigliatura. Si occuperà di organizzazione della burocrazia regionale e risorse umane. Di politiche sociali si occuperà invece Tilde Minasi, 61 anni, di Reggio Calabria, avvocato, è stata capogruppo della Lega nella precedente consigliatura. Esperta di contenziosi civili e amministrativi, nel 1999 ha partecipato attivamente alla stesura del regolamento amministrativo e contabile del Consiglio regionale.